alessandro 23 02 è un canale con molti formato originali degli esempi enciclopedia treni 21 maggio 2013 enciclopedia motrici 9 luglio 2013 tragedia ferroviarie 22 aprile 2016 problema per problema 4 giugno 2016 il settimanale ferroviario 12 dicembre 2015 nonostante i molti tentativi di imitazione noi andiamo avanti così giusto per ricordarlo